buongiorno oggi l'esortazione di oggi sarà un appello cercasi tito perché questo titolo leggete con me in secondo corinzi 7 da 5 a 7 dice da quando siamo giunti in macedonia infatti la nostra carne non ha avuto nessun sollievo anzi siamo stati tribolati in ogni maniera combattimenti di fuori timori di dentro ma dio che consola gli afflitti ci consolò con l'arrivo di tito e non soltanto con il suo arrivo ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi il vostro pianto la vostra premura per me così mi sono più che mai rallegrato perché cercasi tito perché vedete a volte non leggiamo in modo approfondito e non studiamo realmente quello che paolo visse nella sua vita quello che era il suo ministerio e pensiamo che paolo fosse indistruttibile non inscoraggiabile non lo si poteva battere l'apostolo paolo era il pioniere cannoniere del regno di dio eppure la scrittura non dice questo eppure la scrittura dice che paolo era sottoposto alle passioni sottoposto alle situazioni avverse in questa frase racchiude tantissime cose ma ci sarebbero tanti passaggi dove spiega tutto quello che ha affrontato paolo ma qua ci fa comprendere che la nostra carne cioè la nostra vita non ha avuto nessun sollievo anzi siamo stati tribolati in ogni maniera combattimenti di fuori problemi esterni e timori di dentro i timori di dentro possono essere tante cose un timore di dentro può essere definito anche la depressione lo scoraggiamento l'abbattimento la pesantezza la paura combattimenti di fuori timori di dentro senza tregua era la vita dell'apostolo paolo e l'apostolo paolo più di molti altri possono capire le situazioni avverse che noi viviamo ma qua dice qualche cosa di molto bello ma dio che consola gli afflitti paolo si stava definendo un afflitto uno sconsolato un sofferente paolo stava soffrendo dice ma dio che consola gli afflitti ci consolò con l'arrivo di tito non dice ci consolò col suo spirito che lo spirito santo per l'amor del cielo consola ma non è l'unico modo a volte il signore lo spirito santo ci consolano tramite l'intervento e l'aiuto la venuta le parole la pacca sulla spalla l'abbraccio di altre persone tu puoi essere uno strumento di consolazione la consolazione non è solo una carezza mentre stai agonizzando la consolazione è anche un incoraggiamento è un gesto d'amore è uno sprono è un è un qualcosa che va a motivare la tua vita e a volte può essere fatto con poco e non dice che dio intervenne direttamente ma dio intervenne tramite consolò paolo tramite la consolazione di tito stesso tito arrivò e la sua venuta fu motivo di gioia di di rallegrarsi di allegrezza per la vita di paolo e gli ha portato delle buone notizie belli sono i piedi dice la scrittura di coloro che annunciano buone notizie di coloro che annunciano la pace quanto sono belli questi piedi perché la loro venuta rallegra il cuore una buona notizia da lontano è fonte di gioia è un buon incoraggiamento io credo che il corpo di cristo ha bisogno di più tito spirituali di persone che vengono per incoraggiare di persone che non danno per scontato che delle persone stanno bene ma non perdono occasione per incoraggiare tu puoi essere quel tito e io vorrei chiederti vorrei invitarti non lo faccio mai in queste pillole ma vorrei invitarti a chiedere a dio oggi come posso essere un tito tito ha incoraggiato la vita di paolo e uno potrebbe dire ma paolo non ha bisogno di incoraggiare gli altri è lui che incoraggia gli altri le persone che più incoraggiano spesso sono quelle che hanno più bisogno di essere incoraggiate ogni uomo donna è soggetto a debolezza è soggetto a scoraggiamento è soggetto a difficoltà e ha bisogno di un incoraggiamento ha bisogno di un post it attaccato su una sua bibbia un sms un whatsapp una telefonata e dire grazie per quello che stai facendo volevo incoraggiarti a non mollare mai grazie simone per quello che stai facendo ti incoraggio ad andare avanti grazie per la parola che mi hai dato grazie per il tuo sorriso in quel giorno continua così volevo sentivo nel mio cuore di incoraggiare la tua vita a volte tu puoi essere un tito senza che te ne rendi conto ma io voglio invitarti questa mattina a essere incoraggiato ad incoraggiare abbiamo bisogno di più tito nel regno di dio di persone chiamate che si lasciano usare da dio per incoraggiare le persone per sostenere per spronare le persone magari tu non lo sai ma persone vicino a te stanno vivendo un grande combattimento e a volte quella parola di di conforto vale più di tante altre cose vale più di tante altre cose tu non te ne rendi conto e io ti parlo per esperienza personale a volte quanto più ricevevo critiche persecuzioni credetemi per andare avanti a volte mi è bastato semplicemente un messaggio di una persona che mi disse grazie per quello che stai facendo la parola che tu mi hai dato mi ha grandemente benedetto non mollare a volte sono questi piccoli apprezzamenti incoraggiamenti che possono cambiare la tua giornata che possono cambiare la tua vita in quel momento a volte abbiamo bisogno di alcuni tito nella nostra vita ed è inutile che spiritualizziamo tutto una parola giusta al tempo opportuno è come un bacio sulla bocca è come un bacio è come un acqua fresca durante un tempo di aridità e tu puoi essere quel tito fai oggi non aspettare domani oggi scegli di essere il tito per la vita di qualcuno chiamalo mandagli un messaggio scrivigli fagli visita e sì quel tito spirituale porta allegrezza al paolo della tua vita al tuo prossimo e consolalo e anche se ha timori di dentro e combattimenti di fuori forse la tua parola la tua venuta la tua visita il tuo messaggio potranno fare la differenza nella sua vita a a a cercasi tito spirituale voglio benedirti incoraggiarti nel nome di gesù in quel momento a te prendere i nostri amici come un bacio e far riso per i nostri amici ne mancaghi per il secondo e non so è